Nessun rischio di danno era reale. Il sindaco di Viadana, Nicola Cavatorta, ha formulato una risposta scritta, come chiesto espressamente dal consigliere di minoranza in quota PD Adriano Saccani a Viadana, in merito alla questione del segretario comunale, sulla cui gestione, secondo lo stesso Saccani, poteva invece prefigurarsi il rischio di danno era reale. Cavatorta ha riportato diversi stralci di alcuni decreti legislativi. In particolare il sindaco spiega che la sede di segreteria risultava vacante a Viadana dal 1 ottobre 2019 e che la regenza è sempre stata autorizzata dalla prefettura di Milano col dottor Claudio Bavutti rimasto in carica fino al 30 settembre 2021. Da allora il ruolo è svolto dal vice segretario comunale. L'assenza di candidatura resovana, nel frattempo la ricerca da parte del sindaco affinché venisse trovato un altro segretario cercato dunque a partire dal 1 ottobre 2019 inizio della sede vacante, il 18 giugno 2021 è stata approvata la convenzione per l'esercizio in forma associata dalle funzioni di segretario comunale tra i comuni di Viadana e Dosolo col primo comune capofila. Tramite PEC sono stati contattati, ha spiegato sempre Cava Torta, cinque segretari dei comuni limitrofi che ci sono però dichiarati indisponibili. Il 3 novembre 2021 è stato richiesto alla prefettura di Milano di individuare la figura di segretario reggente ma non si è trovato nessuno dato che questa situazione, spiega sempre Cava Torta, è diffusa in molti altri comuni italiani. Il sindaco viadanese ha ricordato anche la circolare del Ministero dell'Interno numero 4545 del 2020 che spiega che non sono imposti i limiti temporali specifici all'attività del vice in caso di assenza e impedimento del segretario titolare, anche perché, citando un altro passaggio, l'autorizzazione ministeriale è richiesta solo per comuni con popolazioni sino a 5.000 abitanti e Viadana ne ha 20.000. È dunque esclusa, conclude Cava Torta, ogni ipotesi di danno erariale, anche perché il vice segretario comunale non percepisce alcun tipo di emolumento, a differenza di quando il consigliere Saccani era in giunta come assessore e l'ente aveva speso legittimamente oltre 100.000 euro annui per avvalersi di questa figura.